Come richiedere il recupero di un bonifico effettuato a un truffatore del trading online La truffa nel trading online è un problema serio che può causare la perdita di somme significative di denaro. Tuttavia, esistono passi che puoi intraprendere per cercare di recuperare i fondi persi. In questo articolo, esploreremo le misure da prendere per richiedere il recupero di un bonifico fatto a un truffatore del trading online. 1. Contatta la tua banca immediatamente. La prima cosa da fare dopo aver scoperto di essere stato truffato è contattare immediatamente la tua banca. Fornisci loro tutti i dettagli relativi al bonifico fraudolento, inclusi i dettagli del conto beneficiario, la data e l'importo del bonifico. Le banche hanno procedure in atto per affrontare frodi finanziarie e possono bloccare il bonifico o aiutarti a seguirne il percorso. 2. Presenta una denuncia alla polizia. La frode finanziaria è un reato, quindi è importante presentare una denuncia presso le autorità competenti, come la polizia locale. Fornisci loro tutti i dettagli della truffa, inclusi i dettagli del truffatore e le prove che possiedi, come e-mail o messaggi di chat. Una denuncia ufficiale può essere un passo fondamentale per l'avvio di un'indagine. 3. Contatta il tuo consulente finanziario o avvocato. Se hai perso una somma considerevole, potresti voler consultare un consulente finanziario o un avvocato specializzato in frodi finanziarie. Questi professionisti possono aiutarti a valutare le tue opzioni legali e guidarti attraverso il processo di recupero dei fondi. 4. Segnala alle autorità di regolamentazione finanziaria. Segnala l'azienda di trading Truffaldina alle autorità di regolamentazione finanziaria nel tuo paese. Queste organizzazioni hanno il potere di indagare su comportamenti fraudolenti nel settore finanziario e possono adottare misure disciplinari contro l'azienda. 5. Mantieni un registro dettagliato. Tieni un registro dettagliato di tutte le comunicazioni e delle azioni intraprese in relazione alla truffa. Questo può includere e-mail, messaggi di chat, registrazioni telefoniche e documenti correlati alla transazione. Un registro accurato può essere utile quando si cerca di dimostrare il caso alle autorità competenti. 6. Sii cauto in futuro. Per evitare di cadere nuovamente vittima di truffe nel trading online, sii sempre cauto quando trattieni con piattaforme di trading. Verifica la legittimità dell'azienda, cerca recensioni e feedback online e non condividere mai informazioni personali o finanziarie con sconosciuti. Ricordati che il recupero dei fondi persi a causa di una truffa nel trading online può essere difficile e talvolta impossibile. Tuttavia, intraprendendo azioni immediate e seguendo le procedure appropriate, aumenterai le tue possibilità di ottenere giustizia e di evitare di cadere vittima di ulteriori frodi.